Amici buongiorno, stamattina iniziamo con un gradito ritorno, finalmente ritorna, eh sì, finalmente ritorna il nostro polpettone con la scarola, la scarola abrasata con la provola, olive e capperi, eccolo qua. Eccolo qua, il nostro polpettone classico con prosciutto cotto e provola, sempre presente, sempre attuale, sempre speciale, ed eccoci ai cotti, iniziamo subito con la nostra Arista degli agruvi già in forno, eccola qua, la vedete? Già pronta. Signori, l'Arista è pronta, come sempre il sugo cuoce ancora un po'. Signori, pronti operativi, eccoci qua, stamattina non vi elenco le cose, ve le faccio solo vedere. Guardate che spettacolo. Banco, parte qui. Eccola qua, questa è la numero 200. Voi direte che cosa significa numero 200? Tra poco vi faccio un po'. Salve a Bahia, signora. Mas a gente gosta quando una baiana quebra direttina e di cima e baixo. Eccola qua, signori, sono giusto. 200 polpette. Eccola qua. Incredibile vedere tutte assieme e pensare di averle fatte? Non potete credere. Tutte uguali. Eccola qua. Banco, parte, seconda, si inizia dai nostri superfreschi. Trippa, fegato e il resto, come dicevo, non ve lo elenco. Eccolo qua. Signori, il nostro banco. Pronti e operativi. Siamo pronti per i saluti con la massima qualità di sempre. Quella che ci contraddistingue da sempre. Ma, ma che devi fare questa maschera? Scusi, beh, beh, oggi non dobbiamo vengono a misciare la dita. Eh? E' il tacchino, è per la dita. E oggi me la mangio tutta buona. Wow, figlio, ma...